La cosa più importante era passarlo questo girone, è stato un girone che abbiamo gestito bene, lo abbiamo giocato bene, con coraggio, con personalità e alla fine abbiamo meritato la qualificazione. Credo che passarlo come secondo è un po' più complicato, sarà un ottavo di finale più complicato ma l'importante è stare nell'ottavo di finale. Sono contento perché in un periodo di magra abbiamo ottenuto un risultato importante, questo spero che possa dare un impulso alla squadra a fare meglio anche in campionato. Credo che abbiamo speso molte energie in questo girone di qualificazione, giocando contro squadre a livello di intensità tra le top in Europa e quindi il mio stato d'animo è che sono contento che abbiamo passato il turno. Canale 21 e poi Tele Luna Perché solo chi passa il turno può vincere la Champions. È un incontro per valutare la situazione del momento e poi insieme prendere quella che è la decisione giusta per il Napoli e per tutti noi. La mia è quella che oggi sono ancora sulla panchina e spero di esserla anche per la prossima. No, ho visto una squadra attenta, ancora non sciolta come dovrebbe nella costruzione del gioco, però siamo stati efficaci, abbiamo sfruttato molto bene Rientro De Mili che ha dato una mano importante alla squadra, ma tutti hanno dato il loro contributo. Non è stata una partita eccezionale ma a livello caratteriale la squadra era preparata. Io non ho nessuna decisione da prendere, non ho nessuna valutazione da fare se non quella con il Presidente che deciderà se in base alle sue indicazioni si può andare avanti oppure no. Non è che ci sono molti altri discorsi da fare. Ha fatto piacere comunque, le ha fatto piacere? No, molto, molto. Soprattutto la tifoseria è ritornata a stare vicino alla squadra, quello è stato sicuramente importante, ma come sempre dipende tutto da noi. Se i giocatori mostrano attaccamento i tifosi sono della tua parte. Il fatto di essere in discussione è assolutamente normale, fa parte di questo mondo. La squadra, come avete scritto tante volte, ha avuto un rendimento negativo nel campionato. Niente da dire nella Champions, ma il campionato è stato, proprio per quello che abbiamo fatto in Champions, deficitario. No, è mancato, è mancato, è inutile nasconderci. È un attaccante importante per la squadra, ma devo dire che c'è stata una collaborazione da parte di tutti. Mertes ha fatto un'ottima partita, un bellissimo gesto nel concedere il rigore a Milik per fare la prima tripletta con la maglia del Napoli. Insomma, ci sono degli ottimi segnali da questa partita.